Prima di iniziare a guardare questo video, ascolta a me, clicca su iscriviti, attiva la campanellina per attivare le notifiche e lascia un mi piace. Buona visione! Ok ragazzi, dove ammettere che forse sono stato un pochettino esagerato la scorsa volta. Quindi adesso bisogna ponderare bene e risolvere il problema, perché effettivamente YouTube ci dà tutti i meccanismi e i mezzi per poter risolvere questo problema. Quindi prima di dire le cose bisogna pensarci un attimo, quindi entriamo in gestione video e vediamo insieme come poter risolvere, perché effettivamente non ci avevo pensato, ma si può fare. Ok, prendiamo questo, Absolver, bollino giallo, va bene, ecco qua, richiedi revisione, semplicissimo ragazzi, se avete ragione a dire, a dichiarare che appunto questo video non ha contenuti che devono essere diciamo rimoderati, ricalcolati, Quindi richiediamo la revisione e tutto si risolve. Allora, revisione, ecco qua, vedete, stato della monetizzazione, annunci limitati e assenti per contenuti ritenuti non adatti a tutti gli inserzionisti. Il tuo video rimane comunque completamente riproducibile e adatto ad ottenere entrate derivanti negli abbonamenti a YouTube Red. Perfetto, richiediamo questa revisione. Eccola qua, revisione. Al momento siamo in grado di revisionare i video con almeno 1000 visualizzazioni negli ultimi 7 giorni. Quando la soglia sarà raggiunta, revisioneremo il video e ti comunicheremo la nostra decisione fidale. Solamente entro una settimana. Tu la pagherai per il, per il male che hai fatto. Adesso! 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 Adesso!